Grazie mille Gianfranco, dici bene, cominciamo con un po' di ok femminile, allora io do il benvenuto alle mie ospiti, allora Cristina Berti, Valario, allenatrice, Jessica Ceglio, assistente allenatrice e Nicole Valario, giocatrice, dopo ti faremo alzare per far vedere la maglietta a tutti. Allora, le Power Girls, che cos'è? Che quest'idea da quando è nata, come è nata? Le Power Girls sono natte circa un anno fa, in questi periodi, durante un torneo bambino a Como, ed è nata l'idea da un papà di una ragazza, Marco Nicolao del Como, e Dimitri Zygorov, che mi hanno coinvolto in questo progetto per radunare tutte le ragazze del Ticino e della Lombardia. Un progetto che sta funzionando piuttosto bene. Abbastanza, sì. Siete contenti? Quante ragazze ci sono, Jessica, chiedo a te? Allora, fino adesso siamo a 29 ragazze, svizzere e italiane. Piccole e grandi. Piccole e grandi, radunate proprio da tutto il Ticino, da Lugano, Valle Verzasca, Ambrida, per tutto. Quindi c'è stata comunque una buona risposta? Sì, direi di sì. Siete, vi aspettavate una risposta del genere? Forse fin così tante no, però siamo contenti che ne siano arrivate così tante per una continuità. Tra l'altro avere un'assistente allenatrice che ha fatto da apripista, racconta un po' la tua di storia. Io ho cominciato a 7-8 anni ad Ambrì con i ragazzi, perché andavo a vedere mio fratello e mio papà che allenava e da lì poi ho continuato, ho giocato con i maschi fino a 12 anni e poi ho ricominciato a Zurigo facendo avanti e indietro in treno pur di giocare. Poi appena Cristina ha fatto partire la squadra Lugano mi sono aggregata al volo. Quindi qua abbiamo delle pioniere in tutti i sensi. Eh sì. Ci voleva qualcuno che pensasse anche un po' al movimento femminile? Eh sì, verso fine anni 80 eravamo in tre ragazze e ci sono messe in testa di voler giocare a occhio e a tutti i costi. E chi la dura la vince. Chi la dura la vince. Nicole, allora tu che ruolo hai per esempio? Io sono difensore. E ti ispiri a quale giocatrice? A Nicole Bullo. Un caso che ti chiami Nicole e anche lei si chiama Nicole. È una coincidenza? Sì. Allora ti faccio, magari vediamo se la regia ci inquadra, se ti alzi che facciamo vedere la bella maglietta che avete fatto. Il colore? Rosa. Eh, ma chi l'ha scelto? Noi. Bene. E il nome? Il nome è... Anche voi? Anche noi. Quindi tutto pro girls, poi vabbè avete anche le doppie bandiere, quindi è proprio una cosa integrata. Brava, adesso ti faccio risedere, mi racconti un po' da quanto giochi? Io gioco da... ho cominciato a quattro anni, quindi da otto anni. E ti piace di più giocare con i maschi o con le bambine? Con le ragazze. Perché? Perché si giocano più di squadra e i ragazzi meno. Non te lo passano il disco? No, quasi mai. Vabbè. Allora, prossimamente, ecco intanto guardiamo le immagini che arrivano dalla regia. Queste siete voi, tutte bardate, pronte per scendere in pista. Quanto ci si mette a mettere su tutta quella roba lì? 15-30 minuti. Cioè si prende un po' con calma? Qual è l'obiettivo vostro? Allora, l'obiettivo è appunto radunare tutte le ragazze in modo che si conoscano, farle giocare assieme per migliorare sempre di più e seguirle anche nel loro percorso che istico, in modo che non si perdano per strada. E lo scopo finale è che riescono poi a entrare nelle squadre femminili in Ticino, in Serie A a Lugano o in Serie B a Chiasso. E tra l'altro, Nicole, tu sei entrata anche nella Nazionale Under 15 da poco. Com'è andata? Bene, abbastanza bene. Hai fatto delle selezioni? Sì. E c'erano tante? Ragazze. Però hanno scelto te, vuol dire che sei brava? Sì. Allora, Jessica, gli allenamenti come funzionano? Ma allora, le varie ragazze giocano nelle loro squadre, nel loro club, perché almeno così imparano le basi dell'hockey. E poi noi cercheremo di, in qualsiasi occasione, magari di radunarle per fare delle amichevoli con le altre squadre, quando loro ci chiederanno, ma vorremmo riuscire a trovarle almeno una volta al mese, ci piacerebbe radunarle e fargli fare qualcosa. Sarà diviso per età, per gruppi, tra Moschito A, Piccolo 2 o Bambino, ecco. Ed è sempre possibile farle giocare contro altre ragazze o è più dura e bisogna andare a cercare comunque squadre maschili? Contro altre ragazze è un po' dura, quindi sarà contro ragazzi in tornei, se riusciamo su invito, se ci invitano facciamo tornei, quest'anno ne abbiamo fatti due. E come sono andati? Bene, bene. Vi siete comportate bene quindi, ma c'è anche di mezzo il campionato, visto che ognuno gioca nella sua squadra, tu dove giochi? Nel Lugano. E com'è andato il vostro campionato? Molto bene. Molto bene che vuol dire? Siamo arrivati primi e l'abbiamo vinto. Ecco, allora, questo è il secondo titolo dopo quello delle ladies del Lugano e ci sono due ragazze, secondo me lo zampino femminile nella squadra è stato bello? Sì. Emozionante? No. Ah, no, tranquilla, evviva, è già abituata a vincere, perfetto, siamo a posto. Allora, prossimamente penso la stagione finirà ormai. È conclusa, fine marzo, metà aprile, la stagione cristica si chiude e aspettiamo il futuro e radunare almeno una volta al mese tutte queste ragazze e giocare partite amichevoli con i ragazzi in Ticino, almeno una volta al mese, possibilmente. Tra l'altro l'aneddoto che mi hai raccontato prima del portiere della Valle Verzasca è un segno di comunque riuscita del vostro progetto, raccontiamo cosa è successo. appunto è questa ragazza del 2003, non figurava nella lista dei convocati della nazionale Under-13, allora io ho messo in comunicazione i genitori della ragazza con i responsabili dell'Under-13, l'hanno accettata in selezione e ha passato il turno. Una bella soddisfazione. Che cosa vi aspettate come risposta dai club per il prossimo anno? Diciamo un po' di collaborazione, speriamo di riuscire a fargli fare più ghiaccio assieme possibile, sempre che i club ci diano il ghiaccio e le varie squadre ce le lasciano prendere su, comunque speriamo di riuscire a collaborare con un po' tutti i club del Ticino, non più uno più l'altro perché comunque non è che agevoliamo più una squadra o l'altra, ma l'importante è poterle radunare il più possibile. È più difficile rapportarsi con la Svizzera interna e la Svizzera francese o con la vicina penisola per quanto riguarda l'occhio femminile? In Italia diciamo che sono tantissime le ragazze che giocano all'hockey, molto più che da noi. Il brutto dell'Italia è che a 13 anni loro smettono, non hanno sbocchi e noi non vogliamo questo, vogliamo cercare di continuare. Svizzera tedesca invece sono un po' più avanti di noi, non hanno squadre femminili, anche loro giocano con i ragazzi, invece la Svizzera francese è meno sentita. Diciamo che chi lavora bene è Lugano e Zurigo. Si vede in effetti dai risultati. Infatti sono le nostre due squadre di punta Svizzera. C'è il Neu-Chattel che sta cominciando a lavorare anche a livello giovanile e si spera che qualcun altro arrivi perché più squadre di punta abbiamo o meglio è per tutto il movimento femminile. Certo, adesso poi con i risultati ottenuti dalla Nazionale Femminile e anche dalle Lady speriamo che arrivi anche più gente da voi. Io vi ringrazio tantissimo di essere state qua. Nicola, in bocca al lupo. Grazie. Studia anche, mi raccomando. Perché bisogna anche ricordare ogni tanto quello.